Centinaia di trote morte sono state ritrovate a Caposele, il fiume che nasce ad Avellino e giunge fino al Cilento. Dalle prime indagini sono emerse tracce di possibili sostanze pericolose per la salute dei cittadini. Sentiamo. Sono state trovate morte nel fiume Sele, località Tremoggio, centinaia di trote nel comune di Caposele. Le guardie ambientali volontarie del WWF hanno segnalato anche nei giorni scorsi che il corso d'acqua aveva una colorazione bianca. Ad un primo esame congiunto di Asle e Arpac sembrerebbe che la morte dei pesci sia avvenuta per annossia, essendo stati rinvenuti materiali litoidi o calcarei nelle branchie. È un danno gravissimo per l'intero ecosistema fluviale, ha dichiarato Maria Gabriella Alfano, presidente dell'Ente Riserve Naturali, Foce Sele e Tanagro, Montiere, Mita e Marzano. Ci siamo immediatamente attivati con i nostri uffici, con un sopralluogo nel sito e segnalando l'accaduto ai reparti di vigilanza ambientale dei carabinieri della Polizia Forestale e alla Procura della Repubblica, affinché si faccia luce sulle cause della moria di trote e se ne individuino i responsabili. Non escludiamo che un simile segnale possa significare anche la presenza di un pericolo concreto per la salute dei cittadini.